Non ci sono solo le roventi polemiche per i mancati controlli che hanno portato il Ponte Vecchio ad un cedimento che ha ormai raggiunto velocità e proporzioni impressionanti. Quartieri, probassano, associazioni di categoria, professionisti del settore si sono uniti in un comitato preoccupati da un progetto di restauro che prevede lavori nei quali verranno tolte la pavimentazione e la massicciata. La conseguenza di questo modo di procedere è che il piano del ponte resta un cantiere. Perché ci sono queste travi, perché ci sono gli operai e non c'è il pavimento. Quindi inagibile per circa tre anni. Noi chiediamo che si parta dal rifacimento delle stilate sostenendo l'impalcato da sotto lasciando integro e completamente agibile il piano del ponte e soltanto dopo aver completato questi lavori nell'alveo passare al restauro della parte superiore che richiederà soltanto qualche mese. Una proposta per rendere meno indolore il necessario cantiere che si dovrà aprire insomma ma sul progetto c'è anche un'altra questione. Un restauro che stituisce, e ho paura di vederlo, parti marce, ripara quelle mezze marce e conserva quelle così così. Sarebbe una stupidaggine enorme. Le stilate vanno ricostruite con legno nuovo e con opportuni rinforzi e ancoraggi sono in grado di resistere altri 200 anni senza bisogno di inserimenti di strutture reticolari che stravolgono il modello strutturale del palladio. Vi immaginate come potrebbe essere nominato monumento nazionale un ponte con travi reticolari in acciaio sopra e sotto.